E avete già riconosciuto, Geppi Cucciari, ciao Geppi, bentornata a casa tua diciamo, visto che le parole è il programma che abbiamo fatto con... Bentrovato, ciao Marco, ciao professore. Senti Geppi, lo pronunci tu il titolo di questa strepitosa canzone di Itazenda, ce lo dici bene, non voglio fare figurato. Guarda, questa è una canzone del repertorio popolare sardo, in realtà cantata da molti artisti, tra cui appunto Andrea Parodi e Itazenda, che sono un simbolo della Sardegna senz'altro. Questa canzone si intitola in realtà Adiosa, ma tutti la chiamano Non poto reposare. Ed è una canzone che è una canzone d'amore stupenda che io cantavo sempre con mia madre quando ero piccola e ci sono molto legata. E poi è una canzone che c'è nello spettacolo, è una canzone che piaceva molto anche a Mattia e che ha scelto di mettere nel mio spettacolo. Quindi ogni volta che la sento sul palco mi commuovo e penso a mia madre e a Mattia. Adesso parleremo di Mattia Torri, ma prima vogliamo sentire, hai un minuto di tempo, sai, la Cressidra, in un minuto raccontaci questa canzone. A tuo parli di Andrea Parodi, Geppi? Sì, ha parlato di Andrea Parodi. Ho parlato di lui che l'ha interpretata tante volte sempre in maniera toccante. Posso farti un ringraziamento pubblico? Questa è la più bella canzone, Pinora, presentata qui, a parte Ebrel. Questa è la più bella canzone. È l'anima salva dentro una canzone. Se addirittura è stato in piedi il professore, si accoppia. Grazie di averla cercata. È una canzone d'amore splendida, quasi unica. È del 20 questa canzone. Di un grande poeta che si chiamava Salvatore Simi, che ha scritto versi meravigliosi. Ed è la storia quasi antica, perché una storia così c'è già nella leggenda trovadorica. Geoffrey Rodelsky, se amore da lontano. È un uomo che non può stare lontano dalla sua donna. Muore, si deprime e continua a dirle, se tu non ci sei io sono finito. E la cosa bella è il fatto reale. Cioè Andrea Parodi invitò la moglie nell'ultimo concerto che fece. Lui era malatissimo, purtroppo in scheletrito, senza capelli. Cantò benissimo questa canzone e finì dicendo magari ci rivedremo forse per un altro bambino, per un altro figlio. Quindi c'è tutta una storia teorica e meravigliosamente pratica in questa canzone. Che è una delle canzoni d'amore più belle che io abbia mai segnato. È vero, grazie Geppi. Guarda, penso che questa sera l'hai fatta conoscere probabilmente a qualcuno che si aveva dimenticato. Sono sicuro che... Cos'è questa... Ah, sei tu che scuoti. Sì, sono... Snackera. Hai prima fatto riferimento al monologo. Questa sera, dopo di noi, alle 22, restate su Rai 3 perché c'è Perfetta. Io ho avuto il piacere di vederti a teatro con quella straordinaria persona che era Mattia Torre che alla fine dello spettacolo stava davanti al camerino di Geppi. Per non disturbare, in un angolo, un uomo meraviglioso, a volte che è un fuoriclasse della scrittura, della sensibilità, che si è calato nel personaggio di una donna, cosa non facile, e di una donna particolare. Ci puoi dire chi è la protagonista del monologo che vedremo alle 10? Beh, la protagonista di questo monologo che Mattia ha scritto per me è una donna che in realtà non sono io, è una donna che ha due figli, che ha un marito, che ha un lavoro che non è il mio, vende macchine. Mattia ha scelto un lavoro maschile proprio per portare all'esasperazione la differenza tra i tratti naturali di una donna, è un lavoro così diffusamente maschile come quello di vendere macchine, anche se tante donne vendono macchine e una sua amica gli diede tutta la consulenza necessaria per mettermi in bocca parole esattamente legate a quel mondo, per me è incredibile, perché io le macchine le scelgo in base al colore. E questo, anche se non sono io, la donna che porto sul palco sono più io di tante altre che mi è capitato di portarmi dentro, è una donna fragile, piena di forza, è una donna che parla del ciclo della donna, del ciclo mestruale della donna, è diviso in quattro fasi, parla dei suoi quattro martedì, martedì tutti uguali, dove a cambiare lei in base anche alle sue alternanze ormonali. In realtà le riflessioni finali sono molto più preziose e delicate e sono un grande atto d'amore e di conforto di tutte le donne che del ciclo non sono ostaggio, ma sono portatrici di vita e di meraviglia. Buonasera, Geppi, lasciatelo dire, insomma io ti conosco abbastanza bene, sei stata di una bravura, cioè lei riesce a interpretare quattro momenti diversi della stessa donna, e se fai ridere, fai piangere, insomma alle 10 di sera per cortesia ve lo chiedo, non vi muovete da qua perché Geppi Cucciari vi farà passare una serata indimenticabile. Geppi, adesso però... Beh, tutte noi donne abbiamo un condominio dentro, Massimo, l'avrai riscontrato nella tua vita, quindi... Anche noi uomini, noi siamo ancora più litigiosi, viviamo all'aperto, siamo sulle panchine dei parchi. E poi, visto che siete due scrittori, perché comunque anche il professore, chi scrive le canzoni è un poeta a modo suo. Uno più intonato dell'altro, però diciamo sì. Esatto, però questo spettacolo è la dimostrazione che non esiste la scrittura di genere. Mattia ha parlato di una cosa che non poteva conoscere, ovvero il ciclo, ma ha parlato delle donne, le donne stanno nel mondo insieme agli uomini, che ne sono mariti, fidanzati, figli, colleghi di lavoro, e questo è uno spettacolo che punta una luce sulla meraviglia, la complessità dell'essere umano, che è la donna, a categoria a cui io appartengo, senza ombra di dubbio. Mi sembra, con questa definizione, abbiamo, diciamo, completato questo lancio, che mi sembra meritorio. Sì, sì, sì. Questa sera, guardate... E va veramente visto. E un argomento che sicuramente avrebbe ispirato qualche battuta intelligente a Mattia Torre è quello che ti facciamo vedere adesso. Allora, questa settimana si è discusso come si fa a rieducare un bullo. So, Geppi, se tu hai mai frequentato dei bulli, ma il nostro nuovo ministro... Certo, purtroppo. È pieno, no? Il nostro mondo, diciamo... Da bambina, da bambina... Da bambina... Con bullizzata non lo so, perché poi a un certo punto io reagivo. Ecco, come reagivi? Però senz'altro... Come reagivi? Ci incuriosisce sapere come reagivi? Dicendo poffarri, per rebacco, no? No, no, tirava calci, sicuramente, tirava calci. Non credo, però... Insomma, non so, sarebbe comunque un reato caduto in prescrizione, senz'altro. Però credo di aver reagito anche fisicamente, sì. Anche fisicamente? Eh, vabbè, tu non la conosci, Geppi. No, certo che la conosco. Io la conosco piuttosto bene. Cioè, con la prossemica, capito? La prossemica è tutto nella vita. Eh, beh, certo. Se mi veniva un'altra parola, non prossemica, va bene. Allora, vi dicevo, il ministro dell'istruzione e del merito, caro Roberto, il professor Valditara, parlando di come andrebbero rieducati i bulli, ha fatto una serie di affermazioni che hanno fatto molto discutere. Guardiamo la clip. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, e viva l'umiliazione, che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Ecco, qui poi lui ha chiesto scusa, dicendo volevo dire umiltà e non... Beh, non si può dire, volevo dire. Spiega, spiegaci tu. Si sbaglia la prima volta e si è sbagliato, chiuso lì. Cioè, le parole si devono usare come sono, non si possono usare altre parole. La parola umiliazione è diversa dalla parola umiltà. Sono due cose completamente differenti, non c'entrano niente. Il tutto deriva naturalmente, tu lo sai meglio di me, da humus, che significa terra. Cioè niente di più basso, niente di più modesto della terra. Da humus deriva homo, perché siamo noi, perché siamo fatti di terra. È naturale, giusto? Adesso, tra umiliazione e umiltà, c'è una bella differenza. Umiliazione è una provocazione che viene dall'esterno, per buttarti giù, per far male, per sminuirti, per non far credere a nessuno che sei quello che sei. roba mediocre. Invece, l'umiltà è un'altra storia. L'umiltà è una virtù. L'umiltà è una virtù perché ti cresce dentro grazie ai maestri. Sono i maestri che sono umili, quelli umili, che ti insegnano che cos'è l'umiltà. Quindi, non umiliazione, assolutamente. Non bisogna insegnare l'umiliazione, ma insegnare l'umiltà, che è una grandissima dote, perché tu sai di essere come gli altri, ma proprio perché sei umile speri di vedere ancora meglio le stelle, il cielo, il sole, tutte le cose più belle. Vorrei sederti, Roberto. Parti dallo zero. Chiedo una cosa a Geppi che poi chiederò anche a te. Ecco, ma tu Geppi, il ministro vuole dire in sostanza però che fare certi lavori, fare certi compiti appunto socialmente utili, crea poi nel ragazzo, lui dice un senso di umiliazione, forse voleva dire un'altra cosa, ma che produce un riscatto. Ecco, tu ci credi a questo. Tu pensi che in questi casi usare certi strumenti, forzare una persona in quel modo produca un risultato positivo o no? Beh, insomma, sicuramente io, nonostante sia priva di Ardesia e di Cimosa come professore, sono d'accordo con le sue riflessioni. Sicuramente l'umiliazione ha a che fare con una sottomissione, con un'umiliazione, con un avvilimento, intendo che forse non è... mi piace pensare che non sia quello che voleva dire, che sia stato un grandissimo malinteso intellettuale. Sì, ma non poteva, Geppi, non poteva, non poteva sbagliare. Però diciamo che dal ministro dell'istruzione mi aspetto che usi le parole. Non me ne frega niente che abbia corretto dopo. Diciamo che ha dimostrato, l'umiltà è anche riconoscere gli sbagli, in qualche modo, oltre che... Quindi io mi accarezzo internamente a quest'idea. Poi è ovvio che quella parola ha spaventato tutti. I lavori socialmente utili di solito sono alternativi alle pene carcerarie. Devo dire che temo che la scuola debba accompagnare i ragazzi in un altro percorso, una scuola accompagnata dalle famiglie e probabilmente solo queste due cose insieme possono segnare un percorso diverso per i ragazzi. non ce la fanno le famiglie da sole, non ce la fa la scuola da sola. Sono una figlia di insegnante e penso che gli insegnanti facciano un lavoro molto prezioso. Grazie Geppi. Adesso volevo mostrarvi, anche per farvi fare un sorriso, una clip. Adesso vedrete un tifoso del Qatar a proposito di lavori socialmente utili che vede i tifosi giapponesi presenti allo stadio che puliscono lo stadio dei mondiali dell'inaugurazione. Guardate quello che succede è la faccia di questo tifoso. La sorpresa, c'è un popolo che pulisce i posti. È meraviglioso. Guardiamo questa immagine impariamo dai gioppoli. Vedere in Italia. Vediamo. C'è un'altra cosa è un'altra cosa inizia a un'altra cosa L'esempio è contagioso, ci ha raggiunti Beppe Severnini, ciao Beppe. Secondo te questo signore è tornato a casa, avrà rimesso a posto la tazzina dopo averla usata oppure no? Ma sicuramente è rimasto colpito, male non gli ha fatto questa esperienza. Tra l'altro i giapponesi, qui sono tre grandi amanti di calcio, il Giappone, la squadra del Giappone, ha ripulito anche lo spogliatoio, l'ha lasciato perfetto, con tutto piegato e compagnia bella. Noi somigliamo più al signore del Qatar o ai... Beh, domanda facile, lo chiedo a Geppi. Geppi, ti riconosci in questo signore del Qatar? Io mi riconosco nello stupore di vedere un popolo intero che pulisce una cosa che... Di solito si dice chi sporca pulisce, loro hanno pulito quello che non hanno sporcato loro, questo rende il gesto ancora più straordinario. E devo dire che la parola che hanno scomodato, e qua io risbatterei il professore alla lavagna, è la parola rispetto, che forse è la parola più importante che è stata estrapolata dai giapponesi medesimi. Un paese che io conosco, ci sono stata solo una volta, ma devo dire il rapporto rispettoso nei confronti delle cose che loro hanno è incomiabile. Un'altra parola bellissima, un'altra rispetto, è la parola perfetta, salutiamo Geppi che si va a preparare perché alle 10 con la regia televisiva di Paolo Sorrentino... Certo, ci credono tutti Massimo, grazie per aver letto questa maniera. Eh beh, certo. Ci siamo seduti tutti proprio, perché adesso io già sono truccata in casa come Stefani Forrester, adesso diciamo pure questa cosa. Ma io da ragazzino, quando succedevano queste cose davanti alla TV, ci credevo, mi piacevano tantissimo. Quando partiva un filmato di lì a un minuto e tu facevi finta di credere che quello che era di con te in un minuto si sarebbe... Si tenerissimo Massimo, per quello che ti voglio bene. Era bellissimo. La tua innocenza ti salverà. Ti ringrazio. Ciao Massimo, ciao Peppe, ciao professore. Ciao, buona serata, ciao Geppi. Vi aspetto alle 22, corro sul palco, ciao. Ci vediamo alle 10, ciao. Ciao.